E' bello che alle mie spalle ci sia l'immagine del Cristo glorioso risorto e dalle mie parti si parla dell'uomo vivo e sono qui per rendermi anch'io presente per questo evento così bello della partita per la vita che come voi sapete è pensata per stare vicino a quanti sono affetti dalla lesione del midollo spinale ed è una partita che d'altra parte come sempre se ci porta al gioco il gioco è opportunità di incontro, di solidarietà e quindi vorrei anch'io farvi arrivare il mio saluto, il mio augurio perché questa esperienza intanto possa essere motivo di speranza, di vicinanza, di presenza ma soprattutto di sensibilizzazione perché possiamo sempre di più avere gli uni l'opportunità di portare accanto a noi, con noi, nel nostro cuore quanti senza dubbio nella vita possono anche avere motivi di scoraggiamento è la partita che si vivrà il 6 maggio, è bello che ve lo ricordi anche il Vescovo alle ore 20 allo stadio comunale Renzo Barbera nella nostra bellissima Palermo ed è penso un'opportunità che dobbiamo vivere ancora una volta in questo periodo abbiamo motivo di incontrarci attorno a questo sport così bello che è il calcio anch'io sapete che sono un appassionato di calcio e non posso non salutare con grande gioia questo evento un abbraccio a tutti e buon divertimento